E quindi, signore e signori, è ufficiale, il Barcellona vince per 3-1 nei confronti del Napoli e la Juventus si qualifica per il Mondiale. Dispiace per gli amici napoletani perché Napoli ha fatto una bella partita, secondo me, stasera. Il Barcellona merita, a grandi linee per me, di passare il turno, ma il Napoli ha fatto una bella partita. Il Napoli ha avuto una bella reazione perché non era assolutamente facile andare a riaprire una partita dopo un 2-0 in 20 minuti. Questo va detto con grande chiarezza. E se all'andata il Barcellona aveva sprecato un po' troppo e aveva lasciato l'opportunità al Napoli di pareggiare questa gara, al ritorno il Barça mi è sembrato molto, molto, molto più convincente. La notizia grossa non è quella che interessa a me l'eliminazione del Napoli, la notizia grossa è la qualificazione della Juventus al prossimo Mondiale per il club. Juventus e Inter saranno le due rappresentanti dell'Italia perché il Napoli e l'Alazio sono state eliminate all'interno di questa Champions League. Erano le uniche due squadre che avrebbero potuto poi qualificarsi insieme all'Inter, che era già avvantissimo. Vedremo domani sera con l'Atletico cosa succederà, vedremo anche per quelli che saranno i punteggi relativi alla qualificazione della quinta squadra in Italia per la Champions League, ma queste cose le vedremo dopo. Adesso ci focalizziamo su Barcellona-Napoli perché ragazzi è stata una partita bella. Me la sono proprio goduta alla grandissima. E chi era live con me lo sa, sono stati dei ritmi molto alti, molto alti. Ed è stato molto interessante vedere questo Barcellona che cercava di imitare tantissimo quello che era l'approccio del City di Guardiola dell'anno scorso. Quindi con queste impostazioni a tre, con uno dei centrali che stringeva e uno che invece si allargava, anche se il City solitamente fa venire dentro il centrale. Ecco, il Barcellona ce l'ha messo già dal primo minuto perché ha messo Christensen avanti alla difesa, perché tra Gavi, Pedri, tantissimi altri infortunati, De Jong, c'erano tantissime assenze per il Barcellona. Quindi ha dovuto fare un po' di necessità virtù, un centrocampo un po' riadattato, quello con Christensen, Gundogan e Fermin. Poi però si è dimostrata anche una scelta che ha pagato abbastanza per Xavi perché Fermin è molto più avanzato rispetto agli altri due centrocampo per andare a uomo sulla botca, per permettere al Napoli di non giocare da dietro questo pallone e cercare di andare a fare anche l'uno contro uno sui giocatori che del Napoli da dietro facevano partire l'azione. Quindi una scelta molto offensiva da parte di Xavi e questo Fermin che si buttava dentro. C'è stata un'occasione nel primo tempo dove ha fatto uno stop meraviglioso sul lancio della difesa e poi ci arriviamo e poi ha sbagliato quel pallonetto in uscita su Meret. Però è stata un'occasione incredibile. Poi è proprio Fermin che invece porta il Barcellona in vantaggio per un gol. È a zero data anche abbastanza bene perché la palla è stata colpita un po' così e passa sotto le gambe del difensore del Napoli. Il Barcellona è avanti. Il Barcellona che però raddoppia subito dopo con João Cancelo. Vecchio cuore bianco-nero torna a segnare un gol per la Juve Cancelo dopo tanti anni ed è un gol molto importante perché dal punto di vista della competizione ovviamente avere una competizione in più è qualcosa di positivo. Immagino già le mie bestemmie con 50 gradi all'ombra a luglio 2025. Tra l'altro io compio gli anni il 25 luglio. Quindi 25-7-25 magari la Juventus vince il mondiale per club o perde una finale dato che questo fa parte un po' della nostra storia. Però è importante soprattutto perché vai ad aprirti determinati tipi di mercati che in questo momento magari sono un po' nascosti per la Juventus o irraggiungibili al momento perché ovviamente si parla di mondiale e quindi diventa una vetrina molto interessante anche per quegli investitori che magari ad oggi sull'Italia non sono interessati a portare soldi. Io volevo più che altro parlarvi ragazzi di quella che è la disposizione del Barça la disposizione mentale del Barça perché è la cosa che sorprende di più ora vi dico a me piacciono molto le squadre che hanno dei giocatori di esperienza accompagnati a dei giocatori più giovani. Per dire il fatto che la spina dorsale del Barcellona sia Ter Stegen che ha fatto un paratone nel primo tempo nei confronti di un'occasione del Napoli Lewandowski, Gundogan, Cancelo. Io di Gundogan sono profondamente innamorato e stasera ha fatto l'ennesimo partitone della sua carriera però poi quando dall'altra parte ti ritrovi Kubarsi è un 2007 all'esordio in Champions questa sera che tra l'altro Cancelo è stato molto intelligente a provare quel calcio d'inizio con il pallone lungo su Osimen tra Cancelo che è un difensore per modo di dire è quasi più un ala infatti gli esterni del Barcellona stasera sono stati Cancelo a sinistra e Yamal a destra poi parleremo anche di Yamal però prova a mettere la palla tra Cancelo che si alza e Kubarsi che invece è al suo esordio a 17 anni appena compiuti in Champions League metti che succede qualcosa di strano la frettata e vado in vantaggio subito però ragazzi Kubarsi ha fatto una prestazione da veterano questa sera veramente vedere che il Barça va in vantaggio con Fermin che è un 2003 un po' come da noi può essere il Miretti di turno per annata e magari anche inserimento all'interno delle gerarchie quindi tanti infortuni e quindi viene fuori un po' come quello che sta vivendo Miretti oggi rabbio che si fa male allora gioca lui però Kubarsi fa un partitone dall'altra parte Yamal che avevo già visto anche all'andata lui ne ha ancora 16 di anni deve ancora farne 17 però è qualcosa di non lo so, sceglietelo voi l'aggettivo sceglietelo voi cioè quel tunnel che ha fatto da per terra nel secondo tempo sul finale di partita ti fa capire veramente che questi giocatori qua hanno quel qualcosa di speciale poi il Barça si permette di far entrare vabbè Romeo stenderebbe un velo pietoso sulla prestazione e sull'ingresso però quando entrano Joao Felix e Sergi Roberto e Sergi Roberto fa quel movimento senza palla va a prendersi con la palla sulla rimessa laterale va a dialogare con Gundogan e Gundogan con la palla stop di destra in bucata di sinistro Sergi Roberto la mette intelligentemente dietro Lewandowski chiude i conti anche il fatto che Ragmani per l'ennesima volta va a segnare un gol per il Napoli perché Ragmani sta iniziando ad essere un giocatore impattante anche dal punto di vista realizzativo per il Napoli il Napoli che, ripeto, ha una reazione importante positiva, inaspettata di grande carattere perché giocavi non al Camp Nou d'accordo però in Champions League queste partite qua poi devi anche far vedere di essere pronto a giocarle e la vai a riaprire a un certo punto il Barcellona ha mollato pure il pressing e si è visto un Barcellona un po' più stanco infatti mi fa quasi impressione pensare che nel momento in cui mi sembrava un po' più stanco il Barcellona due cambi a centrocampo e uno in attacco Barcellona si è ripreso un pochettino il dominio territoriale della partita e il Napoli ha fatto molta più fatica anche se, ripeto, il Napoli credo che abbia fatto una partita positiva anche perché il Napoli quest'anno è in crisi nera se non nerissima il terzo allenatore Calzona ha dovuto preparare l'andata in poche ore il ritorno in poche settimane secondo me è stato anche un lavoro abbastanza di livello quello dell'attuale allenatore del Napoli quindi Napoli eliminato Barcellona che va avanti partita super super divertente Juventus al Mondiale e permettetemi perché se da una parte credo che sia necessari i complimenti al Napoli per la partita disputata dall'altra vi dico che mi fa piacere non poco pensare ad Aurelio De Laurentiis che in queste settimane è rimasto lì a rimarcare il fatto che la Juventus comunque al Mondiale non dovrebbe giocarci anche in caso di qualificazione Aurelio questa sera avevi l'opportunità comunque di qualificarti sul campo questa opportunità purtroppo non l'hai colta e al Mondiale pre-club l'anno prossimo ci andrà la Juventus e non il Napoli magari quest'estate o comunque sul finire della precedente stagione quando sei riuscito a creare anche con merito un giocattolino abbastanza efficace si poteva evitare di smontarlo per maniera di protagonismo questo è un po' il messaggio che voglio passare al presidente del Napoli e quindi ragazzi stasera siamo a letto contenti con una prospettiva differente e con una competizione in più da raccontare da vivere insieme la prossima estate quindi diciamo che l'estate sta iniziando a diventare qualcosa di impattante per il calcio perché quest'estate l'estate 24 avremo gli europei anche se appunto non fa parte la Juventus o le squadre però è un appuntamento da non perdere l'anno prossimo avremo appunto il Mondiale pre-club e poi l'anno dopo ci sono già ancora i mondiali quindi diciamo che le prossime tre estati saranno così abbastanza divertenti frizzanti pimpanti la Juve d'estate l'ho vista solo una volta l'ultimo scudetto la Juve l'ha vinto il 26 di luglio perché c'era stato il covid chissà che giocare tra luglio e agosto non possa essere sempre una cosa positiva per la Juventus l'unica squadra ad aver vinto uno scudetto d'estate un abbraccio ragazzi grazie per l'attenzione fatemi sapere la vostra qui sotto partita veramente molto molto bella grazie a tutti grazie a tutti